Musica 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 Stamattina ho riconosciuto una signora che quando facciamo un'altra signora, la introduriamo. E' domenica dopo la partita che... ...maia è un marrone. un campanello è la strada e adesso devi cambiare 7 risposte in 17 secondi ciao va bene è più forte di quanto pensassi come come? ma l'ho capito bene sì, benissimo guarda qua, così sta plegando gioel? 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 donella? gioel? vieni anche tu a casa, vieni qua brando, brando brando sorridi un po' dai sono invidiosi Paolo cosa? a quest'ora, a quest'ora grazie grazie Grazie.